Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. A tre settimane da oggi io metterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. C'era un'idea. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili. Sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere. Noi siamo la gente della Juve. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatiglia noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ragazzi che vogliono vincere, perché vincere è sempre stata la nostra abitudine ed è una bellissima abitudine. Ascoltate bene, non permettete a niente. E a nessuno. Ridividaci e niente ci distruggerà. Nella mitologia greca, i titani erano superiori agli stessi dei. Dominavano l'universo con potere assoluto. Beh, quel campo da football là fuori è il nostro universo. Dominiamolo davvero i titani. Noi siamo la più grande squadra del mondo. Questo è il vostro momento. Andate fuori e vincete. Di Bala, di Zelle, di Bala, di Bala, di Bala, di Bala, di Bala! Il raddoppio della Lugandos! Bala di Bala, un coltanto assentifico! Abbiamo la nostra casa. Abbiamo la nostra magnifica squadra. Abbiamo degli straordinari tifosi. E saremo sempre uniti, oggi e domani, pronti a gridare assieme fino alla fine! Abbiamo la nostra scuola! Abbiamo la nostra scuola! Abbiamo la nostra scuola! Abbiamo la nostra scuola! Abbiamo la nostra scuola!